Garantire al consumatore finale la tracciabilità delle produzioni agricole e la qualità delle materie prime è l'obiettivo della Toscana, che fa la parte del Leone a Firenze Bio, la manifestazione dedicata ai prodotti biologici e biodinamici alla fortezza da basso di Firenze. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha ricordato che le aziende bio in Toscana sono 5.000 sul 25% della superficie agricola, un comparto addetto che segue la strada delle migliaia di giovani che hanno preso parte, anche in Toscana, allo sciopero globale per il clima. L'agricoltura può fare molto in questo, un'agricoltura che sia più rispettosa dei suoli, delle acque, che utilizzi minori input chimici e che quindi prevalgano le produzioni di qualità salutistiche, che sicuramente noi su questa partita come Toscana possiamo dare molto. Ai produttori agricoli la Toscana ha destinato gran parte del piano di sviluppo rurale, con 2.066 aziende che hanno usufruito di 115 milioni di finanziamenti disponibili e ora è allo studio della Giunta regionale anche una legge sui distretti bio.